Ciao, sono Enemi Cantele, ho 31 anni e questa sarà la mia tredicesima stagione da Elite. Ho iniziato a correre quando avevo 13 anni e fin da giovane avevo un grande sogno, quello di diventare un atleta professionista. Quando ho iniziato a innamorarmi di questo sport, sicuramente il mio obiettivo era quello di andare all'Olimpiade e di vincere un mondiale. Ho avuto la fortuna di fare tre Olimpiadi, di vincere medaglie ai mondiali, però ho ancora un grande obiettivo, quello di raggiungere il traguardo più grande, quello della maglia ridata. Quest'anno ci saranno ancora i mondiali in Italia, a Firenze, e ho deciso che questa sarà molto probabilmente la mia ultima stagione e finalmente ho trovato un team, B-Pink, che mi rappresenta nel modo migliore, dove ho trovato l'ambiente dove posso esprimermi al meglio come atleta, ma sicuramente come persona. Siamo qua a ritiro a Cervigna e abbiamo iniziato a impostare questa grande stagione e secondo me ci sono i giusti aspici per avere dei grandi successi.